Ben trovati a tutti gentili telespettatori ad una nuova edizione del Tg6 dall'Aquila. In apertura parliamo della ricostruzione, infatti sono cinque gli indagati per i lavori di consolidamento di un ponte cittadino in lavori del valore di 2 milioni di euro, ma solo in parte effettuati per il consolidamento post-sismico del ponte Madonna del Ponte, è quanto emerso da una nuova inchiesta della Procura dell'Aquila che ha portato a cinque avvisi di garanzia e al sequestro di oltre 380 mila euro. Sentiamo Filippo Tronca. Cinque indagati e sequestro di 883 mila euro da parte del compartimento di polizia giudiziaria della stradale dell'Aquila. È l'esito dell'inchiesta sull'appalto per le opere di consolidamento post-terremoto del ponte Madonna del Ponte sul fiume Aterno in località Borgo Rivera all'Aquila, poco distante dalle 99 cannelle dalla stazione ferroviaria. La spesa complessiva dell'intervento, iniziato nel settembre 2009 e concluso almeno formalmente nel luglio del 2010, anche se il ponte venne aperto d'urgenza dalla provincia già nel dicembre di sei anni fa, è stata di 2 milioni di euro. Lavoro eseguiti dalla ditta Coggia di Bazzano che fa parte del gruppo Palmerini. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli, le lavorazioni previste dall'appalto non sarebbero state effettuate o effettuate solo parzialmente. Su provvedimento del GIP Guendalina Buccella si è proceduto dunque al sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di denaro per lavorazioni accertate come mai effettuate da parte della ditta giudicataria dell'appalto. E sono stati notificati cinque avvisi di garanzia a due imprenditori e a tre dipendenti dell'amministrazione provinciale dell'Aquila. Tra una settimana, su richiesta delle difese, è stato fissato un incidente probatorio. L'inchiesta è partita a seguito della remissione dell'incarico da parte del collaudatore incaricato della verifica tecnico-amministrativa delle strutture consolidate. Il tecnico lasciò l'incarico per mancanza del deposito degli elaborati strutturali al genio civile ed è previsto collaudo statico. E ci spostiamo ora al comune dell'Aquila dove arriva il nuovo assessore in giunta. Si tratta di Giovanni Cocciante, ex sindaco di Rocca di Mezzo, che prende in giunta il posto di Leglio De Santis, cacciato dal sindaco Massimo Cialente. Sentiamo. Giovanni Cocciante sarà il nuovo assessore al bilancio del comune dell'Aquila. Classe 1948, a lungo sindaco di Rocca di Mezzo, esponente dell'Italia dei Valori. Il nuovo componente della giunta prende il posto di Leglio De Santis, anche lui Italia dei Valori, defenestrato il 5 novembre scorso dopo mesi di scontri con il sindaco Massimo Cialente. E il primo cittadino, con fair play a posteriori, ha ringraziato De Santis e spiegato come al nuovo assessore siano state attribuite tutte le deleghe di cui era titolare il precedessore. Non solo bilancio, ma anche tributi, programmazione economica, politiche per lo sviluppo dei turismi, servizi anagrafici, gestione del patrimonio, affari generali e istituzionali e usi civici. Una scelta obbligata a quella di Cialente. Dopo la cacciata di De Santis, il sindaco ha dovuto accettare l'indicazione di sostituto al loro gradito da parte dei due consiglieri comunali del partito, Giuliano Di Nicola e Adriano Durante, numericamente necessari alla tenuta della traballante maggioranza di centrosinistra. Cosa si può fare per il turismo? Il turismo è una sfida che la interessa? Il turismo? Certo, basta pensare al Gran Sasso, non ci vuole molto per capire cosa si può fare. Sul Gran Sasso cosa pensa di questo piano di sviluppo? Ecco, io non lo conosco a fondo, perché mi inserirò oggi e mi farò dire, però ho sempre seguito le vicende ovviamente dell'Aquila e spero ovviamente, quello che ho pensato però l'ho esternato in varie occasioni pubbliche. Per esempio ho sempre ritenuto, io che vengo dall'altipiano delle Rocche, dove ci sono due stazioni sciistiche, che per come è fatta adesso, la fotografia si può fare del Gran Sasso, non è sciabile, non è fruibile, perché è troppo ventoso, secondo me. L'ho detto pubblicamente tante volte, davanti alle telecamere, ripeto, il mio concetto che ho espresso da tanti anni. Parliamo ora di emergenza mianto, infatti sono migliaia, le tonnellate del pericolosissimo materiale ancora da bonificare in tutto Abruzzo. L'Osservatorio Nazionale Amianto ha lanciato per questa ragione una campagna di mappatura dei siti contaminati e di supporto alle amministrazioni comunali per finanziare ed effettuare delle bonifiche. E per l'emergenza e dell'emergenza amianto si parla oggi nel corso di un convegno a Monte Reale. Ma sentiamo un po' i dettagli e i numeri di questa emergenza. Un'emergenza invisibile, pressoché dimenticata, è quella dell'amianto, materiale killer che uccide 5.000 persone l'anno, disperdendo in atmosfera invisibili particelle capaci di provocare tumori e malattie polmonari. L'amianto è stato bandito da 20 anni, ma anche in Abruzzo ci sono ancora migliaia di coperture di siti industriali, capannoni e pertinenze agricole, per non parlare delle discariche abusive, che andrebbero bonificate con urgenza. Ma i costi per i cittadini e comuni sono spesso proibitivi. Da qui l'iniziativa dell'Osservatorio Nazionale Amianto, con la costituzione di una guardia nazionale che anche nella nostra regione ha già cominciato a battere a tappeto il territorio per mappare tutti i siti contaminati e soprattutto per affiancare le amministrazioni locali nella pianificazione e nel finanziamento delle bonifiche. Al nostro microfono Massimo Lombardo, referente abruzzese dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Esiste un'emergenza amianto in Abruzzo, così come in tutte le altre regioni d'Italia. Essendo l'Abruzzo una regione a vocazione agricola in alcuni punti, abbiamo molti capannoni con coperture in amianto che risultano essere oggi in uno stato di grado abbastanza interessante. Quindi le particelle di amianto possono tranquillamente aerodisperdere e quindi andare a contaminare un'area piuttosto vasta. Per noi dell'Osservatorio Nazionale Amianto, con la persona del Presidente dell'Avvocato Ezio Bonanni e dell'Ona Abruzzo, stiamo lanciando una campagna per coadiuvare le attività degli enti locali nella agevolazione di enti pubblici e aziende private nello smaltimento perché la vera soluzione al problema è rimuovere l'amianto dalle coperture e da dove oggi è installato. Tra i comuni che hanno già aderito, quello di Montereale in provincia dell'Aquila, teatro di un convegno che vedrà la partecipazione di studiosi di livello nazionale e rappresentanti istituzionali regionali per fare il punto sulle azioni concrete da mettere in atto per affrontare una volta per tutte questa emergenza. E domani entrerà nel vivo il giubileo della misericordia anche in Abruzzo, indetto da Papa Francesco che ha dato l'avvio a Roma lo scorso 8 dicembre con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Per l'Abruzzo e per il capoluogo, in particolare l'Aquila, è un evento di grande importanza perché fu proprio Papa Celestino V che iniziò l'indulgenza plenaria. Purtroppo però la Basilica di Collemaggio, dove è presente la Porta Santa e dove sono conservate le spoglie di Celestino V, è inagibile e quindi non potrà essere utilizzata. All'Aquila per questo appuntamento, per domani, sarà utilizzato, l'appuntamento partirà dalla chiesa di Santa Maria di Farfa dove l'arcivescovo e metropolita dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrochi, alle ore 17.30 darà il via alla processione che giungerà poi davanti alla Porta Santa individuata nel portone centrale della Basilica di San Bernardino da Siena. Dall'apertura della Porta Santa seguirà poi la celebrazione eucaristica a cui parteciperà anche il ministro provinciale dei Frati Minori, Carlo Serre, il rettore della Basilica Francesco Rossi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli di tutte le comunità parrocchiali dell'Arci di Ocesi. Al termine della messa alcuni sacerdoti saranno disponibili per le confessioni e per dare la possibilità di ottenere l'indulgenza plenaria. Petrochi sarà poi lunedì 14 dicembre alla carcere di Preturo insieme al cappellano Dorrenzo d'Ascenso per salutare il direttore e gli agenti di polizia penitenziaria e visitare i detenuti nelle loro celle. Venerdì alle 18 poi visiterà l'ospedale San Salvatore dell'Aquila per salutare gli amministratori e sanitari della ASL e visitare i pazienti ricoverati accompagnato in quel caso dal cappellano padre Corrado Lancione. E nella giornata di oggi e continuerà anche per quella di domani l'Aquila ricorda il genocidio degli armeni e tante le manifestazioni organizzate per questo evento in particolare vi segnaliamo quelle dell'Aquila Film Festival sia nella giornata di oggi che in quella di domani e purtroppo però dobbiamo anche segnalare la sospensione di un evento che era inserito nel programma si tratta di quello che era previsto del concerto previsto domani domenica 13 dicembre con la cantante Cristina Zavalloni nell'ambito del cartellone della società di concerti Barattelli che purtroppo è stato rinviato e sospeso per motivi di salute quindi non si terrà. Con questa notizia è tutto a meno rimane che ringraziarvi della consueta attenzione e invitarvi a rimanere sintonizzati sulla nostra emittente grazie ancora, buon proseguimento con i programmi della Rete Grazie a tutti